La demolizione e ricostruzione dell'ex autoparco comunale che vedete alle mie spalle in via Rocco Carabba è una delle opere pubbliche sicuramente più attese e strategiche in città. Sta iniziando la demolizione in capo al provveditorato delle opere pubbliche, però la ditta che si occuperà appunto dei lavori di demolizione sta effettuando una bonifica sull'amianto. Questo è un passaggio assolutamente necessario che la ditta sta eseguendo con tutti i crismi della sicurezza per gli operai stessi che lavorano ma anche per tutti i cittadini. Un aspetto molto importante perché si era generata un po' di preoccupazione ma la ditta ha fatto le sue precisazioni. Del resto le procedure di bonifica dell'amianto sono procedure complesse che vanno fatte a norma di legge e con tutti i crismi della sicurezza. La ditta incaricata dei lavori di demolizione dell'ex autoparco comunale in via Rocco Carabba sta effettuando in questi giorni lavori di bonifica per la rimozione dell'amianto in tutta sicurezza e secondo le norme. Una procedura complessa e anche costosa ma necessaria per rimuovere l'amianto che giaceva nella struttura da più di vent'anni. Un aspetto questo che più che far allarmare per la ditta dovrebbe rassicurare i cittadini che saranno così finalmente liberati da quello che sì prima poteva essere un problema per la salute seppure in zona non ci siano abitazioni vicinissime ma attività per lo più commerciali. Ieri si era generato un tantam sui social a causa di un cartello affisso che invitava la popolazione a non stendere i panni fuori e a chiudere le finestre. Procedura del tutto normale nell'area di un cantiere in questi casi. Anzi una prescrizione dell'ASL in caso di bonifiche di questo tipo. Dunque per la ditta incaricata di bonifiche e demolizione ricordiamo che si tratta soltanto di un primo appalto non ci deve essere nessuna preoccupazione, anzi la loro priorità è salvaguardare la salute anche degli operatori stessi che lavorano in cantiere. L'uso del lamianto in Italia è vietato all'Aquila dopo il sisma. Sono state tantissime le procedure di rimozione del lamianto da strutture che il sisma aveva distrutto. La procedura per rimuoverlo è costosa e complessa come si diceva, un iter burocratico anche abbastanza lungo. La demolizione dell'ex autoparco è in capo al Provenitorato per Repubblica, 1.625.000 euro di lavori.